Nasce a Mesagne il primo centro di dimagrimento psico-nutrizionale, una parola un po' difficile diciamo, ne parliamo con Luana Mitrugno qui nel suo laboratorio in via Vittorio Veneto ad un passo dalla villa comunale, quindi nel centro della città. Luana, i soliti dimagrimenti? No, assolutissimamente no, il nostro è il primo ed unico centro psico-nutrizionale in Italia e siamo unici perché interagiscono nel nostro staff una nutrizionista, una psicologa e un estetista quindi si fa un lavoro di squadra e naturalmente la cliente viene seguita a 360 gradi quindi non è la solita dieta dove poi interviene il momento di dimagrimento Ce ne sono tanti, è vero Luana? Ce ne sono tanti i centri di dimagrimento ma noi siamo gli unici in Italia che riusciamo a dare una garanzia scritta nero su bianco perché siamo sicuri dei risultati che andiamo ad ottenere Da che cosa si differenzia rispetto agli altri centri di dimagrimento? Si differenzia dal fatto che noi seguiamo la paziente in tutti gli aspetti quindi non solo la nutrizione ma c'è una psicologa che comunque segue la cliente dal punto di vista proprio come dice la parola psico-nutrizionale perché al momento la psico-nutrizione è la nuova frontiera del dimagrimento quindi tutti gli aspetti che vanno a bloccare la cliente nel momento in cui ha iniziato il nostro percorso viene sostenuta dalla psicologa per quanto riguarda la nutrizionista non seguirà una dieta stressante perché sappiamo benissimo che poi si arriva a un certo punto e ci si ferma ma una corretta alimentazione quindi il nostro motto è dimagrisci mangiando Ma quasi in un ambiente paramedico quindi? Eh sì perché interagiamo con due dottoresse una psicologa e una nutrizionista e poi naturalmente ci sono io l'estetista che seguo tutti i protocolli in istituto con tecnologie molto all'avanguardia quindi si curano l'aspetto non solo del dimagrimento e della perdita di peso ma anche del modellamento Perché dovrebbero però scegliere chi lo stop? Perché noi siamo gli unici in Italia a dare una garanzia a nero su bianco dei risultati quindi dei chili che si vanno a perdere e noi garantiamo un mantenimento nel tempo infatti il nostro motto dice dimagrisci mangiando o è gratis quindi si resta gratis in istituto finché non si perdono gli ultimi chili Naturalmente è aperto a uomini e donne? Sicuramente è aperto a uomini e donne abbiamo dei clienti che iniziano il percorso marito e moglie e quindi diventa tutto molto più stimolante e più piacevole Soprattutto dopo i lauti pranzi e le laute cene che si terranno in questo periodo? Sì, diciamo che dopo le vacanze di Natale saremo pronti ad affrontare tutti quelli che ci contatteranno perché naturalmente bisogna adesso mettersi in forma per affrontare il nuovo anno e quindi naturalmente anche le prossime vacanze estive Bene, grazie Grazie Luana e in bocca al lupo per questa nuova attività Assolutissimamente Noi siamo orgogliosi di questo centro siamo i primi in Puglia al momento e ci teniamo a dire seguiteci sulla nostra pagina Kilo Stop Brindisi per l'esattezza e chiamateci per tutte le informazioni che volete Grazie Grazie a voi, buonasera